L'opera della redenzione dell'universo non è esclusiva come si può immaginare perché pensiamo che Gesù è morto in croce ed è Gesù che ha compiuto la redenzione. Quindi non è solo opera del Figlio di Gesù ma anche del Padre e dello Spirito Santo. La salvezza della creazione è un'iniziativa del Padre. Difatti Cristo compie la volontà del Padre e gli dice ecco io vengo a fare la tua volontà. Quindi Gesù viene per fare la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? Che Gesù compia la redenzione così come noi la conosciamo. E quindi la volontà del Padre che programma l'incarnazione del Figlio per la nostra redenzione e santificazione. Ed è opportuno per volontà del Padre che noi siamo stati redenti. Dio ama tutte le cose create. Ama principalmente gli uomini già prima della creazione del mondo. Prima che il mondo fosse Dio ha pensato a me, ha pensato a ciascuno di voi per essere Suoi figli adottivi. Nella cattedrale di Trivento vi è una scultura molto significativa. Vi è la grande figura di Dio Padre e sul petto vi è la croce con Gesù crocifisso e poi una colomba. Che cosa dice questo insieme di queste tre espressioni? C'è la colomba, lo Spirito Santo, Cristo crocifisso e Dio Padre che abbraccia tutto. E allora è l'insieme della Trinità che compie la redenzione. Non possiamo pensare che Gesù muore in croce e Dio Padre sia andato a farsela passeggiata. È umanamente impossibile e anche offensivo. La croce di Cristo è azione del Dio trinitario. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Dinanzi alle manifestazioni del male nel mondo Padre Pio prese sul serio il concetto della vita di offerta. Si offre vittima per collaborare insieme a Cristo per la redenzione degli uomini. È la nota dominante della spiritualità di Padre Pio, la vocazione a corredimere. Egli non è semplice spettatore come magari la persona che si trova sulla riva di un fiume e vede che una persona sta affogando e chiama aiuto, grida e poi magari prende un salvagente e glielo lo getta, magari gli da anche le istruzioni dell'uso. No, tutto negativo. Dio in Cristo è colui che si getta, Padre Pio è colui che si getta nelle acque per salvare l'uomo. Tanti peccatori sono frutto di questa azione di offerta, di pagare, di portare i pesi degli altri, i pesi dei peccatori a Gesù per la salvezza di tutti. Egli quindi non è un semplice spettatore. Mi trovo, Padre Pio ha questa espressione che raccoglie un po' tutta la sua mentalità e il suo soffrire. Dice, mi trovo solo a lottare e a piangere sia di notte che di giorno. Il Padre Provinciale mi serba silenzio, il mio confessore mi rimprovera spesso e sono proprio solo a salire la vetta del Calvario. Il vero Figlio di Dio è colui che si offre vittima insieme a Gesù per la salvezza di tutti gli uomini.